Marco Sanginario, dunque arriva la terza sconfitta consecutiva, viene da pensare che ci avevate abituato bene, no? Perché da tifosi del CLN Cusmolisi è la prima volta che capita questa serie negativa. Per la partita di oggi, devo dire, insomma, Cassano cinico, voi avete risentito di qualche assenza, però devo dire la squadra ha dato tutto poi sul parquet. Perché? Beh, a parte dei meriti nostri che sicuramente ci sono e alcuni sono stati anche molto evidenti, va riconosciuta la bravura dell'avversario, questo sì, sapevamo che il Cassano era una squadra che partiva con i favori del pronostico e l'ha dimostrato oggi di essere squadra vera. Assolutamente sì, naturalmente era un po' giù in classifica questo Cassano, ma d'altronde nel ritorno, poi quasi ritorno perché dobbiamo dire ci troviamo a febbraio, era l'ultima dell'andata, però poi cambiano un po' tutto. Beh, stiamo vivendo un campionato che con l'emergenza sanitaria ha una classifica del tutto bugiarda per vari tipi di ragioni. Anche noi stiamo vivendo un periodo di difficoltà dove abbiamo un'infermeria piena e purtroppo siamo costretti a giocare di martedì e di sabato. Sapevamo che era difficile, ma probabilmente non immaginavamo che lo fosse stato così tanto. Questo periodo che stiamo vivendo ora noi l'ha vissuto prima il Cassano, quindi credo che sia una ruota che gira. Dobbiamo essere bravi a rimanere compatti e già pensare a sabato perché a questo punto inizia a diventare determinante la vittoria col Tenax. Assolutamente sì, abbiamo visto in campo Barrichello, ma è davvero al 20-30% delle sue possibilità. Credo anche di meno, ma non è solo il solo che ha degli acciacchi. Anche Turek non è in ottima condizione, anche Renzo. Roman rientrava dopo quattro partite di seguito e si è vista la sua non prestanza fisica. Insomma, stiamo attraversando un periodo veramente particolare per noi. Speriamo di uscirne il prima possibile con l'aiuto del nostro staff, sia sanitario che preparatori atletici. Non eravamo dei fenomeni quando le cose andavano bene, non siamo diventati brocchi tutti di un tratto. Bisogna rimboccarsi le maniche e, come sempre, cercare con il lavoro di riuscire ad uscire da questa situazione che è diventata un po' pesante. Testa dunque al Castelfidardo, sabato si torna in campo. Una partita, come hai detto, importante per voi, ma anche dal punto di vista psicologico? Sabato inizia a essere determinante per tanti fattori, per iniziare a ricustare la sensazione dei tre punti. Ma più che il Castelfidardo mi preoccupa veramente di recuperare tutte le persone a mia disposizione. Non abbiamo un organico lunghissimo, anche se sono fatti degli acquisti. La speranza è quella di tornare il prima possibile a contare su tutti gli elementi e per poi fare il ranch finale, sperando di raggiungere anche un obiettivo che sarebbe storico, che è la finaletta di Coppa Italia, che però, ahimè, non dipende più dalle nostre forze, ma le disgrazie altrui. Dobbiamo sperare che il Coppa non venga tutte le partite del recupero. È una cosa che non volevamo, però siamo costretti a vedere gli altri, anche se secondo me dobbiamo anche pensare soprattutto a noi in questo momento.